Ciao a tutti sono Baum, 777 benvenuti in questo nuovo pack opening speciale perché ieri il Real Madrid ha vinto la Champions League e solo per oggi oltre al Team of the Season, la squadra della settimana abbiamo il doppio di possibilità di trovare un giocatore del Real Madrid tra cui Di Maria, Man of the Match e quindi apriamo questi tre pacchetti da 50.000 crediti ne approfitto anche per dire che lo squad builder settimanale sulla squadra diversa uscirà mercoledì vediamo cosa troviamo nella prima Finborg, Finbo, Finbogason ok, uno l'abbiamo trovato non ero neanche così concentrato nel guardare lo schermo quindi mi sono perso il momento ma abbiamo trovato un Team of the Season e questo ci va stra bene e vogliamo anche dire che il nuovo contest uscirà questa domenica vediamo cosa abbiamo Gomez è vero che oggi oltre che il Team of the Season della Liga c'è anche quello del resto del mondo che finisce proprio oggi perché abbiamo Che Dira quindi niente nell'ultimo Che Dira ok quindi nelle ultime due non abbiamo trovato niente ma l'importante è che abbiamo trovato ancora un altro Team of the Season Finbogason più che altro ho dato questa apertura brevissima per dirvi qualcosa sui prossimi video e per dirvi che dal 29 ad Ultimate Team vi è raggiunta la modalità dei mondiali 2014 e se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi al mio canale commentate da Bob777 è tutto ciao a tutti Grazie a tutti.